Signorina, signorina, venga qua per favore. Salve. Scusi, la lei lavora qua. Sì. Ma non si è accorto di quello che ha fatto quel signore? Ma che ha fatto? Ma stava sfogliando i libri qua fuori. Lo sai che è perseguibile penalmente? Ma no, perché? Fuori legge, no? Fuori legge. Grazie. 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 Grazie.